Seconda giornata, seconda sconfitta per il Politec Piscine, stavolta per 7 a 1 in favore del Carioca Galaxy. Qui con me è l'uomo team Lazzaro. Oggi giornata negativa, mancato forse l'approccio? Sì, sì, sicuramente abbiamo preso la partita sotto gamba, però ancora è l'inizio, ci dobbiamo inquadrare un pochettino, quindi cerchiamo di fare meglio le prossime partite. È chiaro che la seconda sconfitta magari servirà un po' a svegliarvi, anche un po' più che altro sotto il profilo del punteggio, che rispecchia una gara a senso unico sotto il profilo più che altro mentale. Gli avversari erano molto concentrati, cinici, realizzavano ogni occasione che avevano, mentre voi siete apparsi più lenti e macchinosi. Sì, sicuramente loro erano più amalgamati, si vedeva che comunque giocavano insieme da tanto tempo, noi ancora non nemmeno ci conosciamo, quindi pian piano cerchiamo di trovare la quadratura giusta. L'unica nota positiva è il tuo gran bel gol, il tuo bel destro a giro, comunque la tua prestazione è stata positiva, hai cercato di girare più palloni possibili a centrocampo, però la squadra magari non ha risposto bene. Sì, io ci ho provato sicuramente, però ovviamente non conoscendo i compagni, non sapendo i movimenti, tutto è un po' difficile, quindi ti ripeto, giocando insieme sicuramente troveremo il modo giusto per fare le altre partite. Allora ti faccio i miei complimenti e il mio in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Carioca Galaxy 7, Politec Piscine 1, qui con me il capitano del Carioca Galaxy, Aversa, bella partita oggi, gioco fluido, in palla, tutti quanti, forma fisica più che accettabile, concreti, cinici, nulla da dire. No, no, stiamo andando bene, è già la seconda vittoria, abbiamo sofferto un po' più nella prima partita, quella contro il Kunzolo Team, solamente perché, conoscendoci poco ancora, magari sentiamo in alcune occasioni, ora il gioco diventa sempre più fluido, evitiamo sempre di lanciare palla, quindi già tentiamo sempre di farla girare, in modo di perderla il meno possibile e tenerla sempre più in noi. E fino ad ora, diciamo, in queste due partite è andata bene. Ottima la prestazione di Scuto, la sua doppietta, ma più che altro tanti palloni smistati, tanta fantasia, bene anche trovato con la sua doppietta, cinque marcatori diversi per sette gol, questo è un dato molto importante. Sì, sì, il nostro obiettivo è quello di non avere un singolo preciso, comunque che sia anche un punto di riferimento, diciamo, per le altre squadre, noi abbiamo, ci reputiamo tutti dei buoni giocatori, facciamo già la palla, il primo che arriva sotto porta, diciamo, non abbiamo ecco un uomo come punto di riferimento, salvo poi è una persona, è un giocatore che su questi campi sicuramente ci dà una marcia in più e fa la differenza. E anche oggi si è visto. Perfetto, io ti faccio i miei complimenti, in bocca al lupo, il girone è cominciato bene, il torneo è cominciato bene per voi e quindi con l'auspicio di poter continuare così. Grazie.